xd no 20 perché sono di poco valore visto che tu le regali perchè dovresti darli più di box ho capito ma intanto ti danno già i bbox poi ti danno anche quelle cose belle cose quelle schiene tutto il resto se non ti piacciono le vendi oppure tipo le metti all'asta non so tipo un commercio è come fare un commercio di giocatori soltanto sul pc però no a me piace questa mappa perchè non ci va quasi nessuno e se ci va qualcuno è nabbo e quindi è facile da uccidere e poi se trovi un buon loot ma ne trovi veramente bello alle volte io per esempio mi è capitato che nella piscina apro un cesso e trovo lo scar quello leggendario e apro l'altro cesso e trovo il cecchino epico comunque ho un cecchino che non fa abbastanza cagare sì e poi è anche verde lol no comunque c'è un trucco per comunque c'è un trucco per quella no basta non è capito comunque io ho quattro scindini no no bastava saltare no basta che salti sopra una ruota no guarda ti faccio vedere così guarda no 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 trampolino non l'ho preso no eeeh le giampine quelle con i cristalli eeeh qua è soltanto il distributore che vuoi metterlo così G4 l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso No, te ne inculo Guarda che io sono veloce a luttare questo posto, lo conosco a memoria Ci metterò tipo neanche un minuto per luttarlo tutto Quando sono da solo No, ma dovevi sapere Cioè, io in pratica inizia partita Trovo subito le trappole, no? E indovina che cosa faccio Ero qui Ero nella piscina E all'ingresso della piscina, quella storpia Sai questa qua, l'ingresso, quello normale, no? L'ho lasciato chiuso E ci ho messo sopra una trappola Tipo a metà partita Si stava per chiudere la safe Quella era dentro In pratica io e mio cugino eravamo Sopra una montagna Stavamo guardando verso Pinnacoli E mi viene fuori Ha eliminato un tizio Io mi chiedo Ma che cazzo Poi mi ricordo della trappola Ah sì No, dove? L'hai spaccato tu, spero Eh sì Sì, sto minchia Io ho sempre l'ultimo Ti salvo Tipo atterrato, boom morto Oh, che pompa hanno Oh, vieni qua Che c'è il mendikit Oh, attento Uno col cart Vai, vieni Hai preso sul mendikit Io, io sono lungo eh Bombo Meglio così Vieni su sto cazzo Di casetta di merda Vieni su Vieni qua sopra Aspetta un attimo Aspetta Eh, ci no La piazzo Non mi fa piazzare Aspetta Sto cliccando qua Draco Ma non mi fa piazzare Adesso sì Così posso Non scappare il pretto Ci ma C'è molto Ma finchè siamo qui... Ok, ciao. Via, via, via. No, aspetta. Mi sembrava di sentire di nuovo quelli col carto. Aspetta. Quando siamo alla fine... Aspetta. Aspetta. C'era la vedi andare. Vedi gente? Spero tanto di nuovo. No. No, ho 48 colpi di cecchino. No, davvero? Non lo vedo. Aspetta. A 15? Sì. Mi stai percolando, allora. Non andare dentro, plese. Ho due trappole. Oddio! Oddio! Sì. Non mi sono accorto. Ho atterrato una. Ho atterrato una persona. Torno indietro. Ne ho eliminato i due. me lo sto prendendo su tutta la roba. Ma lo sto prendendo su tutta la roba. ho due medici. Ho due medici kit. Era un tipo fine... Oddio! Io no. Ne ho atterrato uno. Vieni! Vieni! Oddio! Ho fatto altre due kill! Ho fatto altre due kill! Le ho uccisi! Ti stanno sparando da dietro. Vedi tutto quel loot? In pratica avevo posizionato una trappola sotto e una di fianco.